Attilio Romanelli, i problemi non mancano naturalmente, andiamo per gradi, insomma c'è questo problema della Terni, l'azienda è rassicurante, poi invece i lavoratori, le RSU dichiarano lo sciopero, lei che ne pensa? Io penso che vanno ripristinate le relazioni sindacali dentro questo stabilimento, c'è una gestione quantomai discutibile delle relazioni che noi stiamo contestando e riteniamo necessario modificarle per consentire e garantire una ripresa non solo in termini produttivi ma anche in termini di lavoro e di relazione umana all'interno del stabilimento. Quindi lei è favorevole all'iniziativa? Le RSU fanno un'operazione che rappresenta un disagio, una criticità a cui si deve rispondere e non si può non rispondere. Un'altra criticità è quella di ex Novelli Alimenti Italiani, c'è una parte dei lavoratori che ha bocciato l'accordo sindacale, lei che ne pensa? Io guardo al risultato complessivo, lì c'è un pronunciamento dei lavoratori che a maggioranza hanno giudicato positivo l'accordo. Credo che sulla vicenda Novelli ci siano altre nubi all'orizzonte che vanno assolutamente capite, seguite e studiate. L'ipotesi di affidamento a un commissario straordinario, l'aggezione della prima fase dell'operazione Novelli credo che sia un elemento su cui mettere attenzione perché potrebbe creare nuove situazioni per l'intero gruppo con sicuramente aspetti non positivi. Terzo caso, tra l'altro qui sul palco della CGL ne ha parlato anche un insegnante, quello del Bricialdi, è alle viste una statizzazione? Sembra possibile a questo punto, però ci arriva l'Istituto Bricialdi alla statizzazione? Noi dobbiamo creare le condizioni perché ci arrivi, sarebbe un gravissimo strappo per la comunità ternana perdere questa eccellenza visto cosa ha determinato in termini di lavoro e di occupazione e soprattutto in termini di formazione. Lì sono usciti giovani di grande valore, di grande attenzione sulle questioni della cultura musicale. Pensiamo che quello sia un aspetto fondamentale di una comunità che si sta impoverendo. E senta Romanelli, infine questa iniziativa che state prendendo, la petizione per la tutela dei redditi medio-bassi e per il bilancio dei consumi, di cosa si tratta? Noi pensiamo che sia necessario e indispensabile riprendere un ragionamento sulla progressività fiscale perché non è pensabile che in questo Paese tutto si racchiuda all'interno di due fasce di ricchezza che penalizzano sicuramente i redditi più bassi e per questa ragione lanciamo una petizione alla regione dell'Umbria perché su questo terreno si avvii una seria fase di riorganizzazione. Non ha niente a che vedere con il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione? No, questo è un altro aspetto. Noi pensiamo che le tasse debbano essere pagate progressivamente da chi ha di più rispetto a chi ha di meno e chi ha di più bisogna che contribuisce a ricostruire quel principio di solidarietà nel Paese che è avvenuto meno. Grazie.